E' stata una sgambata insicurezza quella del Licata contro i cugini dell'Atletico guidati da mister Gaetano Profumo. I gialloblu allenati dal duo Grillo Vecchio hanno badato a non farsi male e a riacquistare il ritmo partita in vista della finale playoff in programma domenica alla Dino Liotta, calcio d'inizio alle ore 16.30 contro il Canicattì. 4-0 il punteggio finale. Oggi è in programma una nuova seduta di allenamento prima della rifinitura fissata per il pomeriggio di domani. Ad assistere all'amichevole con l'Atletico Licata ieri pomeriggio era presente quasi tutta la dirigenza, a nome della quale ha parlato il presidente Bruno Vecchio. La squadra si sta preparando al meglio, il suo commento. Visto una buona intensità nell'affrontare questa gara amichevole, anche se oggi la cosa più importante era quella di mettere benzina nelle gambe e di evitare qualsiasi tipo di infortunio. E da questo punto di vista la missione è stata sicuramente compiuta. Durante il match con l'Atletico sono state mischiate le carte e ad oggi, da parte nostra, non è ancora possibile ipotizzare quale sarà l'undici che scenderà in campo contro il Canicattì. Di certo c'è che tutto l'organico è a disposizione per l'appuntamento più importante dell'anno, quello che può aprire a Capitano Ignazio Pucci e compagni le porte della promozione in eccellenza, obiettivo fissato all'inizio della stagione. L'Atletico Licata invece con questo appuntamento ha ufficialmente chiuso la propria stagione agonistica che ha visto gli uomini di Mister Gaetano Profumo terminare il campionato di terza categoria a quota 32 punti, ampiamente in linea con i propositi di inizio stagione. La società del Licata Calcio ha intanto annunciato che la pre-vendita dei taglianti per andare allo stadio continuerà fino a domenica mattina. Successivamente i biglietti potranno essere invece fatti direttamente al botteghino dello stadio di Noliotta poco prima del calcio d'inizio del match.